Istituito in provincia di Salerno il distretto turistico costiero del Golfo di Policastro, a varare di recente lo che è per la nascita del nuovo polo di sviluppo dell'area, il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo. Sono cinque i comuni del Cilentano che aderiscono all'iniziativa, Vibonati, Sapri, Ispani, San Giovanni Appiro e Santa Marina. Lo ha reso noto nelle ultime ore il sindaco di Sapri, Giuseppe del Medico. Si è finalmente concluso il complesso iter del provvedimento ha fatto sapere. Adesso la parola passa agli operatori che, d'intesa con le amministrazioni comunali del Golfo, dovranno fare rete e portare avanti i progetti in grado di potenziare l'offerta turistica e migliorare la qualità dei servizi. La parola d'ordine, ha detto del Medico, per tutti sarà rilanciare la competitività di questo territorio. In che modo? Dare garanzia nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, certezze giuridiche alle imprese, semplificazione nei rapporti con le pubblicazioni pubbliche amministrazioni, ma anche vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari per chi investe nell'area distrettualizzata. Dobbiamo essere orgogliosi, ha detto ancora al sindaco di Sapri. Siamo tra i cinque distretti campani istituiti insieme a Ischia, Sele Picentini, Litorale Domizio e Penisola Sorrentina. Grazie a questo strumento, ha spiegato del Medico, sarà possibile ottenere ricadute positive in termini economici per tutto il territorio. si tratta di un'iniziativa, infine dichiarato, che partita dagli imprenditori, ha trovato immediata condivisione dai sindaci del Golfo di Policastro per cogliere una importante opportunità per il rilancio del settore globale.